Nel terzo turno del campionato Primavera 2 il Frosinone perde 1-0 sul campo del Pescara. Vantaggio lampo dei padroni di casa avanti dopo pochi secondi grazie al gol di Blanuta che solo davanti al portiere realizza l'1-0. Immediata la reazione del Frosinone, scambio ravvicinato Vitalucci Morelli e grande intervento di Sorrentino che in uscita salva i suoi. L'estremo difensore del Pescara è in giornata di grazie e si ripete pochi minuti più tardi prima sulla conclusione ravvicinata di Selvini. Poi sul destro volante di Vitalucci e infine sul mancino dalla distanza di Peres. Nel secondo tempo il Pescara si riaffaccia in avanti ma Vilardi è attento sul tentativo di Blanuta. Il Frosinone ci prova fino alla fine l'ultima occasione firmata a Peres che direttamente su calcio d'angolo impegna ancora Sorrentino poi sulla respinta non inquadra lo specchio della porta. Finisce 1-0 per il Pescara sabato il Frosinone di Marsella affronterà alla città dello sport di Ferentino la regina. Grazie a tutti! Grazie a tutti!